non vedevo l'ora di fare queste prove generali prove da concorrente che non sono non sono le prove per dire entro non entro ma rimango non rimango la domanda ancora persista fine stasera non c'è più niente niente che mi leghi a te mi sento un voto da dispendere toccare il fondo per capire paola ho devi fare il tuo vibrato capito fatto mi raccomando paola è che io tendo da un po di tempo a eliminarlo il mio vibrato che mi sembra troppo no 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 non frenare quel tuo vibrato lì è la tua particolarità oltre il resto devo proprio puntare lì mi ha stupita ma ovviamente considero questo un consiglio importante insomma non sarà non verrà dal nulla insomma quindi vibrato sia